Sull'asse Bruxelles-Lazio-Calabria si giocò una partita importante per l'assegnazione di un seggio, ma non si parla di questa tornata elettorale ma della precedente, ovvero le politiche del marzo 2018, perché ancora si attende che la Giunta per l'autorizzazione del Senato prenda atto dell'errore praticamente riconosciuto che ha portato in Calabria all'assegnazione di un posto a Palazzo Madama alla Lega, che invece aspettava Forza Italia. Ad essere eletto è stato Matteo Salvini, ad attendere il seggio invece Fulvia Caligiuri, che intanto si è candidata all'Europee, ottenendo 20.000 preferenze circa, ma non riuscendo comunque a essere eletta. Ora, prima la Giunta, poi l'Aula, dovranno pronunciarsi ed eventualmente a perdere il seggio sarebbe Salvini, che comunque entrerebbe in Senato, prendendo il posto nel Lazio di Laura Bonfrisco. La buona notizia per la Caligiuri è che la Bonfrisco è stata eletta in Parlamento europeo, ma ciò ovviamente non significa nulla e non comporta un ingresso della Caligiuri, per il quale comunque si attendono notizie in merito.